Sono 31 le segnalazioni arrivate nel 2019, quasi tutte nell'ultima parte dell'anno, alla sala operativa della Questura di Mantova, grazie a YouPol, l'app gratuita della Polizia di Stato scaricabile dallo store degli smartphone. L'applicazione permette all'utente di interagire con la Polizia inviando segnalazioni relative a episodi di bullismo e di spaccio di droga. Ecco gli agenti nella sala operativa della Questura intenti tra le diverse attività a prendere nota delle eventuali segnalazioni giunte proprio attraverso l'app. L'applicazione che è scaricabile da tutti i sistemi operativi maggiormente usati dagli smartphone consente all'agente, alla popolazione e ai cittadini di comunicare con la centrale operativa della Questura di tutte le Questure d'Italia segnalando sia in forma anonima che non e in modo dettagliato oppure in modo generico situazioni di criticità alla commissione di reati anche in tempo reale con la possibilità anche di mandare fotografie e di geolocalizzare la chiamata e il punto dove la criticità si sta verificando. È un'applicazione che negli ultimi tempi viene sempre più scaricata e sempre più usata dalla popolazione per noi è uno strumento molto importante per comunicare direttamente e per avere informazioni in tempo reale su quello che succede e quindi dare la possibilità alle nostre pattuglie di intervenire in tempo reale per evitare che queste situazioni vengano portate a conseguenze più gravi.